Tanto qui c'è il partito provinciale riunito, tanti attivisti, non solo quelli della prima ora, andate verso un appicendamento in regione, l'agenda già c'è. Sì, assolutamente, c'è un entusiasmo composto perché ora è il momento della responsabilità e dell'impegno da parte di questa classe dirigente provinciale che vuole dimostrare di essere capace di essere forza di governo in Italia, ma sicuramente alternativa alla regione Puglia e alternativa al comune di Bari. Nelle prossime settimane vedrete una serie di attività che vorranno coinvolgere le forze associazionistiche della nostra città per fare in modo che si inizi ad avviare un percorso che possa far tornare Bari ad essere governo di centro-destra. Questo vuol dire che stiamo già lavorando alle prossime comunità? Assolutamente, stiamo sempre lavorando per la comunità, le comunità cittadine, tra cui quella di Bari che per noi è fondamentale come punto di snodo per tornare a governare anche la regione Puglia.